Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, piena di mia volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi e non le tue braccia, per chiederti i quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo Vieni, Spirito Santo Vieni, Spirito Santo Soffia dentro me di nevole Spirito Santo Tu sei benedetto è il tuo seno Gesù. Tu sei l'amore che trasforma Vieni, Spirito Santo Vieni, Spirito Santo Vieni, Spirito Santo dentro me la vita divina Spirito Santo vieni a vincorare il regno di noi Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Il libro di cielo, volume 4, capitoli 182-184, 9-12-18 marzo 1903 Continuando il mio solito stato sentivo che nel mio interno il benedetto Gesù pregava dicendo Padre Santo glorifica il nome tuo confondi e nasconditi ai superbi e manifestati agli umili perché il solo umile ti riconosce per suo creatore e si riconosce per tua creatura Detto ciò non si è fatto più sentire Tuttavia Io comprendevo la forza dell'umiltà innanzi a Dio E mi pareva che egli non ha nessun ritegno ad affidare all'umile I suoi più preziosi tesori Anzi tutto è aperto per gli umili Nessuna cosa è sotto chiave Tutto all'opposto per i superbi Anzi pare che mette un laccio ai loro piedi per confonderli ad ogni passo Onde dopo poco si è fatto vedere un'altra volta e mi ha detto Figlia mia se un corpo è vivo si conosce dal calore interno continuo Perché può essere che mediante qualche calore esterno si può riscaldarlo Ma il calore non venendo dalla vera vita il corpo ritorna subito a raffreddarsi Così l'anima si può conoscere se è viva alla grazia Se la sua vita interna è viva nell'operare, nell'amarmi Se sente la forza della mia stessa vita nella sua Se poi per qualche causa estrinseca che si accalora Fa qualche bene e poi si raffredda, ritorna ai vizi, commette le solite debolezze C'è gran certezza che è morta la grazia Oppure sta negli ultimi estremi di vita Così si può conoscere se veramente sono io che vado all'anima Se sente la mia grazia nel suo interno E tutto il suo bene si fonda nel suo interno Se poi è tutto esterno e niente avverte nel suo interno di bene Ci può essere l'opera del demonio Mentre ciò diceva è scomparso Ma poco dopo è ritornato e adesso è giunto Figlia mia, quanto può essere terribile Per quelle anime che sono state molto fecondate dalla mia grazia E poi non hanno corrisposto La nazione ebrea, la più prediletta, la più fecondata Eppure la più sterile Tutta la mia persona Non fece quel frutto che fece Paolo nelle altre nazioni Meno fecondate ma più corrispondenti Perché l'incorrispondenza alla grazia cieca l'anima E la fa travedere e la dispone all'ostinazione Anche di fronte a qualunque miracolo Trovandomi nel solito mio stato Mi vedevo tutta sola e abbandonata Onde dopo aver molto ostentato Ci hai fatto vedere Gesù nel mio interno E ti gli ho detto Dolce vita mia Come? Solo mi avete lasciato? Quando mi mettesti in questo stato Tutto fu unione Tutto fu combinato insieme E con dolce forza Tutto a te mi tirasti O come si è cambiata la scena Non solo mi hai abbandonato Non solo non mi fa nessuno sforzo Per tenermi in quello stato Ma sono costretto a fare uno sforzo continuo Per non uscire da questa posizione E questo sforzarvi per me È un continuo morire E lui mi ha detto Figlia mia Lo stesso è successo Quando nel concistoro della Sacrosanta Trinità si degradò il mistero Dell'incarnazione per salvare l'umano genere Ed io unito con la loro volontà Accettai il mio frivittima per l'uomo Tutto fu unione tra loro e me E tutto combinato insieme Ma quando mi misi all'opera Vi giunse un punto Specie quando mi trovai Nell'ambiente delle pene Degli obbrobri Carico di tutte le scelle E datagini delle creature In cui vi restai solo E abbandonato da tutti Fin dal mio caro padre Non solo Ma così carico Di tutte le pene come stavo Dovevo sforzare l'Onnipotente Che accettasse E mi facesse continuare Il mio sacrificio Per la salvezza Di tutto il genere umano Presente e futuro E questo lo ottenmi Il sacrificio dura ancora Lo sforzo è continuo Sebbene tutto sforzo d'amore Vuoi sapere dove e come Nel sacramento dell'Eucharistia Là il sacrificio è continuo Perpetuo sforzo che faccio Al padre Che così mi si ricorda Le creature E alle anime Per ottenere il loro amore E mi trovo In continuo contrasto Di morire continuamente Sebbene tutte morti d'amore Quindi non sei tu contenta Che ti metta a parte Dei periodi Della mia stessa vita Questa mattina Avendomi detto il confessore Se mi sentissi il desiderio Di patire Gli ho risposto Sì Ma mi sentivo più quieta Vodevo più pace e contento Quando non volevo altro Se non ciò che vuole Dio Perciò in quello Volevo fermarmi Onde dopo Essendo venuto Il benedetto Gesù Mi ha detto Figlia mia tu hai scelto L'ottimo Perché chi sta sempre Nella mia volontà Mi lega In modo da far uscire Da me una continua virtù Da tenerla in continua Attitudine verso di me Tanto che essa forma Il mio cibo E Dio il suo Invece Ancorché L'anima facesse cose grandi Sante e buone Siccome non è virtù Che è uscita da me Non potrà essermi cibo Gustoso Perché non le riconosco Per opera Della mia volontà Con questi brani Che abbiamo letto Termina il quarto volume Del libro di cielo Come sempre con Grandi insegnamenti Che mediteremo Propriamente Insieme Il primo È una grande lezione Sull'umiltà E sull'interiorità Specialmente La seconda È Un caposaldo Estremo Della vita Nella divina volontà Il secondo paragrafetto Bellissimo È una Culmina in una lezione Sull'amore Doloroso Ecco che ancora Gesù Continua ad esercitare Nell'Eucaristia Un sacrificio In atto In interrotto E l'ultimo Si fa comprendere Come fondamentale Che anche la minima cosa Che noi facciamo Si muova Nell'ambito Della divina volontà Perché anche le cose Più strepitose Più grandi Che potessimo fare Fuori di questo orizzonte Non avrebbero Nessun valore Agli occhi di Dio Gesù dice chiaramente O meglio Gesù dice Prega il Padre Di confondere e nascondersi Ai superbi E di manifestarsi agli umili Perché solo gli umili Lo riconoscono per creatore E si riconoscono per tuo creatore Questa è la caratteristica Dell'umiltà Diceva Santa Teresa Che l'umiltà è verità L'umiltà Ci mette nella verità Di noi stessi Cioè nella nostra Appunto creaturalità Nel nostro essere nulla Da noi stessi Nel nostro vero bisogno Di Dio Del suo aiuto Della sua grazia Di tutto Nella coscienza Che senza Questo ausilio Questo aiuto Noi da noi stessi Non combiniamo altro Che guai E se qualcosa di bene Lo facciamo È tutto merito Dell'Altissimo E se qualche dono Ci viene fatto È dono completamente gratuito Che non meritiamo Non meriteremo Che non possiamo E non dobbiamo Sentirci migliori Di nessuno Ma possibilmente Metterci all'ultimo posto Sentirci come San Francesco I peggiori di tutti E anche se non lo fossimo In atto Essere convinti Che lo siamo in potenza Non disprezzare a nessuno Anzi disprezzare a se stessi Amare la propria obiezione Amare di essere disprezzati Amare di essere dimenticati Nascosti agli occhi del mondo Non considerati Non stimati Non valorizzati Non utilizzati Noi dovremmo Mettereci dati a Gesù E stare per quanto sta in me Che io possa proprio Scomparire agli occhi di tutti Che proprio Non mi si filino proprio Non mi calcolino proprio Questa sarebbe veramente La disposizione Delle disposizioni Perché solo tu mi basti Poi Sappiamo bene Che la vera umiltà Che è come quella Della Divina Maria Se il nostro Signore Decidesse No Io e te non ti voglio Far vivere Dimenticato da tutti Ma voglio darti Questa responsabilità Civile Umana Familiare Ecclesiale E sempre Fiat Ma che c'era Madonna Che voleva scomparire Sarebbe rimasta a vita Nel Tempio Dimenticata da tutti E invece Doveva fare la madre di Dio Insomma E ha detto immediatamente Fiat Ecco Ma sempre tutto Con questo stile Uno diventasse anche Il più grande Uomo potente Il Presidente degli Stati Uniti O il Papa Dovrebbe Deve Sempre ritenersi Anzi A maggior ragione Quando stesse così in alto L'ultimo Il più piccolo Il più povero di tutti E Supplicare continuamente Il Signore Che Gli dia le grazie E gli aiuti Necessari Ad adempiere Così grandi missioni Che danno Responsabilità Enormi Nei suoi occhi Ecco Ecco L'umiltà è una virtù bellissima Al cui interno si campa proprio Bene E Ecco L'anima umile Generalmente è un'anima molto interiore Ecco perché questo discorso Sull'interiorità Gesù lo fa in questo contesto E perché l'umile Non ama apparire L'umile Persona nascosta Ed è facilitato Perché l'interiorità Questo è uno dei punti fondamentali Ci mostra Che ci dimostra Vedete Gesù come dice No Se l'anima Se la sua vita interna È viva nell'operare Nell'amarmi E se sente la forza Della mia stessa vita Nella sua È viva la grazia Ma se la sua religiosità È fatta tutta di cose esterne Cioè Un entusiasmo Per una pratica sentita E Faccio con fervore Un'opera esterna Come un digiuno O partecipo fervorosamente A un pellegrinaggio A una devozione No E Se tutto questo è Solo Esteriorità Senza Che produca Degli effetti profondi Interiori O che sia accompagnato Da una grande Devozione interiore E generalmente Le grandi devozioni interiori Limitano l'esteriorità A quello che è inevitabile D'accordo E certamente Non Se devo entrare in chiesa E devo inginocchiarmi davanti al Santissimo Non è che non mi inginocchio Per non farmi vedere Perché sono umile Assolutamente Io non mi inginocchio Per farmi vedere Mi inginocchio Per adorare il Signore Se qualcuno pensasse Che mi inginocchiassi Per farmi vedere Meglio Così mi disprezza E pensa che sono un fariseo Quindi di questo Ne sono contentissimo Ma non lo faccio Per questo motivo Né posso non farlo Per umiltà Questa non sarebbe umiltà Questo sarebbe E Rispetto umano E sarebbe Negare al Signore Ciò che gli è dovuto Per timore Della considerazione Che gli altri hanno di me Non è questo Ecco Però è vero Che il termometro Della nostra fede Si trova Nell'interiore E questo lo vedi subito Nelle infinite circostanze Della giornata In cui Tu sei solo con te stesso Sei solo davanti a Gesù Tu che fai? Ci parli? Lo ami? Ci pensi? Fai le cose per lui? Gli le offri? Oppure no? Se questo non c'è Vuol dire che la vita interiore Non c'è E Gesù dice Se la vita interiore Non c'è La vita della grazia Barcolla Facilla E se tutto esterno E niente avviene Nel suo interno di bene Dice Gesù E qui dobbiamo Bene esaminarci Questi sono Questa è proprio La tipologia Del fariseo No? Il fariseo Del sepolcro Imbanchiato È tutto esteriore Ma dentro c'è Ossa Putredine di morte Dice Gesù Nel Vangelo Le espressioni terribili Allora dice Ci può benessere Addirittura L'opera del demonio E qualora Dovesse accadere Una disgrazia Di questo genere Accorgersene Se qualcuno Vivesse Disgraziatamente Purtroppo Per tante situazioni Una Dinamica Di questo genere Solo Che il Signore Te la illumina È già una grazia infinita Perché Generalmente I farisei Di questo genere Sono molto Superbi Ostinati Come Gesù Poi spiega Nell'ultima parte Del paragrafetto E non sono Malleambili Non sono Disponibili Ad accogliere La luce Che certamente Illumina una dolorosa Realtà interiore Ma è certamente In vista della conversione In vista della correzione Anche il più grande Fariseo Che dovesse esistere In questo mondo Può diventare Il più grande credente Ecco Allora Infatti Su questo discorso Subito dopo aver spiegato Questo Gesù Innesta L'ultimo Ammaestramento Di questo primo Paragrafetto C'è la corrispondenza La grazia E Dicevo Che rendersi conto Di essere Dei farisei È una grandissima Grazia Che il Signore fa Ecco Ma Se ti fa questa grazia Tu la accogli Vi corrispondi O la rigetti E Gesù fa un esempio Che forse non ci abbiamo Mai pensato Ma è un esempio Drammatico Dice Io sono stato Io in persona A predicar Nel mio popolo In mezzo al popolo Di Israele Io Ma al termine Dell'ascensione Quanti discevoli Avevo fatto Quanti discevoli C'era avuto Gesù 4-500 Io non credo Molti di più A quello Insomma Che i Vangeli E gli Atti Degli Apostoli Anche ci riferiscono Stima In queste proporzioni San Paolo Nelle sue praticazioni Apostoliche Ha fatto Banco Ha fatto Ci ha faticato Tanto Ma Come dire San Paolo Ha fondato Quasi tutta la chiesa Fuori Dei confini Della Giudea Si è andato Lungi Dall'apertutto Si è fatto Tre viaggi Missionari Si è percorso Non si sa Quante parti Dell'orbe Conosciuto Arrivando Fino a Roma Qual è il motivo San Paolo Ha avuto più successo Di me Gesù Deve Corrispondenti Noi pensiamo A quante grazie Questo è un mistero Che ci deve far vivere Con la camicia gelata Con la santa camicia gelata Cioè noi dobbiamo pensare Ovviamente In termini Di riflessione Squisitamente religiosa E senza nessun altro tipo Di implicazione dolorosa Di nessun genere D'accordo? Perché è capitato Al popolo di Israele Potrebbe capitare Al popolo italiano Potrebbe capitare A chiunque Il fatto che fosse Il popolo di Israele È un fatto del tutto contingente Che non giustifica Nessun tipo Di atteggiamento negativo Ovviamente Penso che sia inutile Insomma Di questi tempi Ribadirlo Nei confronti Di questo popolo Che deve essere Come tutti i popoli Caro al nostro cuore Per certi aspetti Anche un pochino Più caro Insomma Perché Gesù e Maria Erano membri Di questo popolo E sono comunque Il popolo Dell'antica alleanza No? Quindi è una riflessione Però Che facciamo Perché questa potrebbe Essere applicata A me E a te Cioè Quante grazie Hanno ricevuto questi Cioè Hanno ricevuto i patriarchi I profeti La sacra scrittura Viene Dotto l'antico testamento Viene Tutto l'ambiente ebraico Autori Autori Che sono stati ispirati Da Dio Per mettere Nero su bianco La sua parola San Giovanni Battista Era ebreo Ma Maria di Nazareth Era ebrea Non è italiana La Madonna Non è tedesca È nata in Israele Da Israele Gesù Cristo È ebreo Gesù non è italiano D'accordo Anche se il Papa Sta a Roma Cioè Immaginiamo Se Gesù e la Madonna Fossero italiani Insomma Io sarei conto Mi sentirei onoratissimo Dico Ma guarda un po' Cioè Hanno scelto il mio popolo Per incarnarsi No È pure un disastro Questo è un mistero immenso Cioè Io sinceramente Tra secolo Quando vedo tante cose E mi viene un po' di Di sano Spero sano Timore Dico Signore mio Non permettere Che succeda pure A me una cosa del genere Cioè Con tutte queste grazie Straordinarie Immense I nostri cari fratelli ebrei Ancora adesso Perché ancora adesso È così per la stragrande maggioranza Non riconoscono Che Gesù È il figlio di Dio Non fanno I salti di gioia Perché la Madonna È una di loro E stanno così Quindi significa Capite Che c'è un'altra dimensione Fondamentalissima Costitutiva Della vita Nella Divina Volontà Che è La Sottolineatura La La valorizzazione La presa di coscienza Dell'importanza Basilare Della Volontà Dell'uomo Perché vivere Nella Volontà Umana È una scelta Non è Un destino O un fato Ineluttabile Non lo è L'ostinazione È proprio Di uno spirito superbo Purtroppo Anche se può essere Inconsapevole Capisci? Cioè Pensiamo Ai nostri Fratellini ebrei Qual è stato Il grosso scoglio? Per certi aspetti È anche umanamente Comprensibile Ma non ti pare Che Dio Si fa uomo Con tutta la teologia Vetro-testamentare Che aveva Guarda che non devi Farti nessuna Stato Nessuna immagine Tutto scritto Nell'Antico Testamento Eppure Noi per quanto Pospensiamo Di conoscere Dell'Altissimo Dobbiamo rimanere Sempre aperti Alle sue sorprese Ecco E non pensare Non fissarci Con le nostre Pur fondate Convinzioni Religiose O teologiche No? Per carità Che Ma ci deve essere Sempre quella porticina Aperta A lasciare Lo spazio A Dio Di potermi sorprendere Di potermi sconvolgere A volte Di potermi Parlare Diversamente Da come io Lo immaginassi Diversamente Così Dio ha fatto Così tantissime volte Nel corso Della Della storia Parole di San Paolo Scegliendo Ciò che nel mondo È debole Ciò che nel mondo È stolto E ciò che nel mondo È nulla Per parlare E per ridurre al nulla Le cose che sono Purtroppo L'incorrispondenza Alla grazia Acceca l'anima La dispone All'estituzione Anche di fronte A qualunque miracolo Cioè se una persona Comincia a essere Che non sente più nessuno Che è stata messa ieri La sentirono Alla messa di ieri Gesù fa i miracoli Gli dicono che opera Del diavolo Che gli fa per Scaccia L'indemoniato muto È L'ha fatto perché L'ha aiutato il diavolo Si arriva fino a questi livelli Grotteschi E drammatici però Ecco Uno sguardo adesso Sul mistero Dell'eucaristia Che è il secondo Capitoletto Interessantissimo Quello che dice Gesù Perché parla Dell'eucaristia Sacrificio E dell'eucaristia Presenza E comunione Nell'eucaristia Sacrificio Che cosa fa? Cioè nella missa Gesù Fa uno sforzo Presso il padre Perché usi Misericordia Alle creature La messa È fondamentalmente Il suo sacrificio Sacrificio Eucaristico Sacrificio Incluento Ma lo stesso Identico Che offrì sul Calvario Al padre Perché ci faccia Misericordia Questo è guai Se non ci fossero le messe Celebrate ogni giorno Sull'altare È guai Se non ci fosse Questo Sacrificio divino Perpetuamente Come dire In atto Di essere presentato Al cospetto del padre Perché usi Misericordia All'umanità Al mondo E anche alla chiesa Guai E questo è il primo Sforzo che Gesù fa Lo dice lui Sono sforzi D'amore No? Il secondo Il sacrificio Lo sforzo che fa È Nei confronti nostri Per ottenere Il nostro amore Sono bellissime Per esempio Quelle pagine Dell'Ura della Passione Dove Gesù Quando parla dell'Eucaristia Comincia a dire Io me ne sto nei tabernacoli E lancio Tante catene d'amore Ma gli uomini Non se le prendono Le spezzano Le catene dell'amore mio E si vanno a rilegare Un'altra volta Alle catene Delle creature E io sto qui E deliro Dentro l'Eucaristia Perché Li amo Li amo Li amo E non me vogliono Lo stesso Quando lui entra In un'anima Che lo riceve Nel sacramento E quell'anima È fredda È incorrispondente Si fa la comunione Poi fa manco un tempo A Aver deglutito Le specie Che prende Scappata La chiesa Non dice una parola A Gesù Se la porta a spasso Si si avvicina Distrattamente Senza nessuna Preparazione Interiore Senza nessun fervore Cioè Gesù soffre Sicuramente Mi trovo Un continuo contrasto Di morire Continuamente Sebbene Tutte morti D'amore Lo sforzo Che faccio Verso le anime È per ottenere Il loro amore Ecco Non sia mai Insomma Che da noi Non trovi Terreno fecondo Dobbiamo metterci Questa intenzione Ecco Di prenderci Tutto l'amore Che Gesù ci dà Dall'Eucaristia Dire guarda Dallo pure a me Se gli altri Non lo vogliono Me lo prendo tutto Io anche Quello che gli altri Non vogliono Ecco Ma che non avvenga mai Che tu debba sentirti Insomma Morire d'amore Per l'incorrispondenza mia Per la freddezza mia Per la negligenza mia Per l'indifferenza mia Nei confronti Del sacramento Delle Eucaristie L'ultimo paragrafetto Bellissimo Dicono Lui se vuoi soffrire Dicono Sì Però la cosa migliore Sarebbe semplicemente Che voglio fare Quello che vuole a lui Vedete Anche le sofferenze Di vittima Una vittima Supponiamo che un giorno Nostro signore dice Oggi niente vittima Oggi ti porto in estasi Tutto il giorno Ti ho portato in estasi Tutto il giorno Ringrazio al Signore Quella era la sua volontà Per quel giorno Il giorno dopo Niente estasi Oggi stai in croce Tutto il giorno Benissimo Benissimo Il giorno dopo ancora Niente estasi Niente croce Oggi ti fai Le ore della passione Con calma Sto medesimando Luisa E ti fai i tuoi lavoretti Al tombolo E ti stai nel tuo solito stato Oggi tutto ordinario Niente estasi Niente croci Vita ordinaria Vita normale Di preghiera Di lavoro E di offerta Dei tuoi sacrifici ordinari E comuni Ecco Gesù dice una cosa Molto Molto bella Chi sta sempre Nella mia volontà Adesso è mattina No? Chi dovessi ascoltare Questa meditazione Durante una mattina Che cosa ci sarà Oggi Come me la prendiamo La giornata Fatto l'atto preventivo Speriamo Bene E ce la prendiamo Così come il Signore Ce la manda In tutti i minimi dettagli Quali croci Ci staranno oggi Quali belle notizie Cosa vorrà oggi il Signore Vorrà darmi Grazie particolari Sarà una giornata Normale Comune Sarà una giornata Sarà il prodigio Pensato da sempre Da Dio E l'unica cosa Che devo sperare È che la possa vivere In profonda unione Con la Divina Volontà In modo tale Che io possa fare Esattamente tutti gli atti Che dovrei fare oggi Nel Divino Volere E che sono già stati pensati E già stati fatti Tra l'altro Da Gesù e da Maria Così come dovrebbero essere Questo è Il massimo Ecco Quindi quest'anima Lega Gesù In modo da far uscire Da Lui una continua virtù E la tiene in continua Attitudine verso di Lui Invece se mi mette in testa Di fare cose grandi Ma anche le più grandi Di questo mondo Pensate che poi Uno comincia a trovare Degli ostacoli Delle difficoltà E sa rabbia E comincia a turbarsi A alterarsi Perché non mi devo fare Questa cosa Grazie oggi Oggi la vita la devo fare La faccio per l'amore di Dio Per carità Gesù non la guarda nemmeno Ecco Quindi Prima di muoverci È sempre bene Che verifichiamo Se quello che stiamo facendo È Corrispondente Alla divina volontà O no Ecco Alla divina volontà Alla divina volontà Alla divina volontà Concedici Messa Messa nella divina volontà Ecco che Centomila graticole Su cui ci gettiamo Per volontà nostra Anche per l'amore di Gesù E E per la sua gloria In questo aiutaci In questo aiutaci In questo aiutaci Sempre Perché la nostra vita Sia autenticamente vissuta Sempre In unione In tutto Con i divini voleri Nella divina volontà In nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti Da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella divina volontà In nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria